Lui e Eugenio Muroni è un dipendente della soprintendenza archeologica senza titoli accademici ma appassionato di cose sardi al punto da trascinare autorevoli studiosi a valutare le sue proposte teoriche e in alcuni casi perfino a pubblicarle su riviste scientifiche. Ma la nuova ipotesi di Muroni se fosse accreditata davvero sarebbe destinata a rivoluzionare tutte le concezioni sedimentate sui sardi della preistoria immaginati sempre con il ventre al suolo ad adorare la madre terra e mai ad alzare lo sguardo al cielo. L'altare preistorico di Monte D'Accoddi per Muroni sarebbe una riproduzione simbolica della croce del sud, una delle costellazioni più mitizzate ma invisibile nei nostri cieli. Invisibile oggi ma non 5.000 anni fa quando sorse l'altare preistorico in quella forma unica e incompresa. Allora le quattro stelle apparivano all'orizzonte in primavera a portare la notizia di un nuovo risveglio della natura e come messaggere divine erano adorate nella forma di una creatura mitica. Le simmetrie ma anche le assimmetrie di Monte D'Accoddi per Muroni coinciderebbero sorprendentemente con la mappa celeste della croce. Monte D'Accoddi è un luogo alto, è uno zigurat ed è un posto che secondo le teorie conclamate della storia delle regioni, dell'antropologia eccetera, dell'archeologia collegano la terra con il cielo. Siccome anche le costellazioni venivano divinizate, qui c'era una costellazione, la croce del sud, che loro hanno antropomorfizzato e divinizato e l'hanno riprodotta nelle assimmetrie della struttura monumentale e anche in altre strutture che ci sono intorno. Eugenio Muroni ha già pubblicato un libro che descrive la teoria ma ora ha scoperto nuovi elementi che la rafforzano. Alla base dell'altare sarebbe riprodotta la macchia nera che nel cielo compare in prossimità della costellazione. C'è una specie di struttura circolare che potrebbe collegarsi con una cosa che loro, i nostri antenati, vedevano nel cielo del 2008 a.C., cioè il cosiddetto sacco di carbone, cioè una specie di recinto cultuale, un tempio probabilmente, che loro l'hanno divinizato, più o meno come il monumento. Una teoria affascinante che alimenta le suggestioni su un monumento che finalmente sta ricevendo le giuste attenzioni più di mille visite al mese nel periodo estivo grazie anche al comune di Sassari che mantiene il sito in maniera impeccabile.